way way ragazzi e bentornati oggi vi mostrerò i miei sponkill e i miei tunnel nel mondo di vallarguta visto che molti me lo avevate chiesto eravate curiosi di vedere come difendere al meglio la vostra vallarguta ecco per voi il mio video allora innanzitutto questo è l'ordine che hanno i miei amplificatori ovviamente il video sarà basato con le lettere dei miei amplificatori voi prestate bene attenzione alle vostre lettere attenzione però che su vallarguta non andremo a mettere tutti gli amplificatori ci sarà qualche amplificatore differente tra ognuno di noi quindi è probabile che la vostra mappa coincidi al 100% con le lettere della mia ma è anche probabile che abbiate messo altri amplificatori ci tengo a fare una premessa raga nel mondo di vallarguta incontreremo parecchi ostacoli parecchi ostacoli naturali per quanto riguarda montagne e colline nette e pianure insomma è tanto varia come mappa quanto fastidiosa da costruire fatta questa premessa vi anticipo che ci sono certi spawn possibili che sono veramente particolari nel senso che ci sono appunto come li chiamiamo noi i piselli viola che fanno spawnare gli zombie in quel preciso punto ci saranno appunto ondate dove magari voi non vi aspettavate che in quel punto nasceva appunto quel pisello in realtà ci nasce e vi scombinerà il 90% della vostra difesa se voi prestate bene attenzione a quello che vi dirò io non avrete problemi se tralasciate un singolo muro un singolo una singola copertura potrebbe andare veramente tutto storto in quanto nel mondo di vallarguta lasciare un passaggio veramente aperto ci scombina tutto perché sono mille passaggi da chiudere mille muri da mettere e tanto particolare come mappa quanto fastidiosa appunto da difendere fatte queste premesse partiamo subito col tutorial partendo dallo scudo antitempesta come vedete ci tengo a precisare che se farete il tunnel qua come il mio non avrete bisogno del tappezzamento io ve l'ho costruito ve l'ho potenziato al 3 per mostrarvi a voi più o meno come è possibile farlo in una certa maniera ma è possibile anche non farlo in quanto sarà veramente tutto coperto da tetti e roba varia in quanto allarguta appunto non c'è la bomba di lava che rischia di romperci il soffitto ok quindi se decidete di buildare come me e chiudere tutti i tetti insomma intrappolarli così potete benissimo decidere di rimuovere tutto il tappezzamento e così senza il tappezzamento potrete stare veramente tranquilli perché come vedete non ci sono punti da dove le streghe potrebbero lanciare ok tutto chiaro guardate com'è costruito innanzitutto ho fatto partire il sostegno da qui inizialmente ok quando parti per costruire lo spawn io parto sempre col sostegno qui che effettivamente ora non abbiamo più bisogno di tenere in quanto sarà tutto sostenuto comunque quindi partiamo con guardare lo spawn kill allora questo è il tunnel come si presenta sarà da entrambi i lati perché qua rischiare di chiudere una parte e rischiare che gli zombie ci sfondino una parte non possiamo permettercelo in quanto appunto possiamo permetterci di farla tranquillamente con tutte le strutture disponibili sta a voi quante risorse spendere raga se dovete affrontare un mondo di vallarguta che non è l'endurance che è vallarguta 6 7 i passaggi vanno bene inutile che vi dica che dovete spammare meno trappole cioè queste trappole sono esagerate per fare un mondo del genere non dico che è sbagliato ma è troppo troppo ovviamente il livello delle trappole va anche quello in base al vostro livello il livello della zona non state a guardare il mio però per la modalità endurance il livello delle trappole è molto importante questo è lo spawn kill tutto tappezzato di gas in modo che qualunque zombie nasca da qui venga sciolto e poi ovviamente qua vedete che c'è una collina dove noi non possiamo buildare non possiamo buildare gli zombie un po passeranno da qui ma non saranno un problema comunque entreranno dentro questo tunnel tutto al più se volete stare tranquilli ci tappezzate qui un altro po di gas tipo qua sopra qua ci ho messo queste perché appunto la gas qua rischia di non prenderli quando la struttura è troppo bassa quando è inferiore di due tiles rischia di non prenderli mentre il campo elettrificato potrebbe prenderli ok qua c'è il tunnel solito un pochino particolare solamente un giro così a s e di qua che possono comunque entrare anche di qua possono passare anche di qua perché inutile la mappa è fatta così e va allarguta raga guardate semplicemente un po' di pugni un po' di stanze per di tempo che siano e poi si arriva all'amplificatore mentre di qua il tunnel di destra anche questo molto particolare perché abbiamo questo punto dove non possiamo costruire pavimenti eccetera eccetera quindi che cosa facciamo lasciamo così lasciamo così cercando di fargli perdere tempo laddove possiamo è parecchio semplice come come build se volete un po' fare qualcosa di più complicato possiamo anche optare per fare una cosa del genere anche se io terrei veramente solamente un muro così e stiamo leggermente tranquilli in questa zona ok qua sono solamente tetti per coprire quelle che sono potenzialmente lanciatori streghe eccetera eccetera se non funziona così niente ci fate il tappezzamento raga inutile che vi dica che comunque dovrete chiudere anche da queste parti poi più indietro lo fate meglio è state più tranquilli ok se abbiamo deciso di togliere il tappezzamento dobbiamo comunque cercare di chiudere un po' tutto e direi che per lo scudo antitempesta ci siamo diamo un ultimo sguardo da sopra siamo al mio amplificatore a come vedete in questa posizione qui allora quello che vedete è l'amplificatore buildato appunto per non far caricare gli smasher diciamo anche se anche qui è un po' particolare allora qua il tappezzamento veramente qua sono impazzito raga sono impazzito e vi spiego subito il perché allora abbiamo questa casettina guardate com'è questo è l'amplificatore a e abbiamo il tappezzamento siccome abbiamo uno spawn che è qui dentro per farvi capire abbiamo uno spawn che arriva da qui dentro dobbiamo coprire praticamente tutto quanto tutto qua qui è esagerato le mie gas sono esagerate tra virgolette pure stoccate potete benissimo optare di metterle fino a qui eh tanto loro nasceranno da lì e comunque dovranno percorrere tutta questa strada però guardate com'è abbiamo uno spawn veramente infinito abbiamo un tappezzamento antistreghe fatto in questa maniera per sopra e un tappezzamento antistreghe fatto per sotto così andiamo a scoprire tunnel allora lì è l'amplificatore ok si capisce percorriamo ok qui è l'amplificatore quindi percorriamo le strade qua è full di sbalzatori perché abbiamo lo spawn persino da di là addentriamoci in senso orario così riusciamo un attimo in senso anti orario da qui così riusciamo un attimo a regolarci allora ok qui c'è ancora una congelante siccome l'ho buildata parecchio tempo fa potete optare voi cosa fare insomma non è sbagliato mettere la congelante io preferisco stare leggermente più tranquillo così ovviamente campi elettrificati potete decidere di metterli o di non metterli è una vostra scelta andiamo avanti qua abbiamo lo spawn che è vi faccio capire anche da qui sopra allora loro nasceranno da qui pochi nasceranno probabilmente da qui e addirittura ci sono state difese dove mi nascevano da qui ci siamo raga cioè è abbastanza complesso il mondo di vallarguta mi rendo conto che abbastanza complesso da intendere vi consiglio di fare questa tipologia di ricostruzione esattamente così perché guardate sono al corrente dei bug che se voi piazzate muri qui state veramente non prendete bene le misure vi nascono gli zombie attraverso i muri perciò raga prendete bene le vostre misure guardate bene da dove cadono gli ho lasciato il punto dove cadere e stessa cosa di qua siccome poi ci sarà lo spawn anche di qua loro cosa faranno sceglieranno di salire qui perché vabbè qui sopra non ci vanno ma se guardate da qui loro camminando non ci possono passare passeranno quindi dal pavimento di qua gli sbalzatori faranno il loro lavoro li respingono tutti indietro e qua abbiamo i soliti due passaggi uno che va di qua e confluisce in quello che è quest'altro sempre lo stesso spawn siamo ok li ho fatti unire così prendono poi lo stesso tunnel entrambi gli zombie e cercano di arrivare all'amplificatore da qui ok non mi sembra particolarmente difficile questa parte quanto più questa parte qui abbastanza complessa da intendere allora a verso nord se guardate la mappa a verso nord adesso abbiamo l'amplificatore lì qua tutto tappezzato con ok acule di legno non ho capito perché avevo messo gli aculi di legno fatemi capire due secondi vabbè comunque optate voi poi come buildare ok abbiamo uno spawn direttamente da qui ve lo ricordate e da qui da qui li buttiamo qui quindi li facciamo prendere il giro da degli stessi altri zombie da lì qua una piccola entrata per comunque quelli che saranno comunque gli zombie magari qualche pisello nascerà più in qua eccetera eccetera lasciate sempre un po di apertura va allargute parecchio parecchio fastidiosa raga io ve l'avevo anticipato ve l'avevo anticipato vediamo di qua invece come vedete c'è ancora le solite congelanti che io preferisco sempre non mettere in questo momento dell'endurance finché non mi risolvono un po di bug per ora preferisco non metterle e qua lo spawn li andavamo nel tunnel di sinistra e qui confluiamo nel tunnel di destra il pavimento da qui che ovviamente guardate ok qui non ce li fa passare quindi passeranno da qui passeranno da qui e sarà un piccolo giro in più che li facciamo fare poi il solito tunnel solito tunnel potenziamo un po ok qua all'inizio io avevo chiuso poi gli zombie comunque cercavano di spaccare di passare da qui le ho lasciato allora l'apertura pure da di qua che fanno questo giro di qua e arrivano all'amplificatore attenzione perché qua l'ultimo pugno comunque me li sbatterà giù e gli farà ripercorrere tutto il tunnel molto molto utile per gli smasher raga inutile dirvelo ma si sa a round alti le cose che funzionano maggiormente saranno i pugni a fine tunnel e qua è un punto perfetto dove appunto fargli ripercorrere tutto il giro ecco perché un'altra ragione ho deciso di aprirli non perché mi spaccavano i muri e basta ma semplicemente anche per questo fatto qui era carino buildato in questo modo secondo me e qui siamo tornati all'amplificatore abbiamo chiuso l'amplificatore A adesso vi faccio vedere l'amplificatore B qui raga potete benissimo optare di mettere gli sbalzatori in terra che vi fanno giampare gli zombie eh è inutile dirvelo potete far così oppure buildare come me e farli saltare qua dove c'è l'amplificatore tranquillamente decidete voi gli spawn sono abbastanza consistenti così siamo all'amplificatore B precisamente in questo punto della mappa allora guardiamo quello che è l'amplificatore vedete qua abbiamo gli sbalzatori da pavimento che cominciano da qui ok qui potete avanzare magari farli cominciare pure da qui decidete voi raga come vi sentite più tranquilli abbiamo chiuso un po' di parti raga guardate bene chiuso di là chiuso di là prestate bene attenzione sempre a chiudere qualora avete problemi ricordatevi di chiudere e di fare un sistema che vada bene per la vostra difesa allora qua abbiamo un tunnel a sinistra e un tunnel a destra semplicemente guardiamo prima quello di destra quello di destra sarà dentro la collina perché vedete qua c'è una collina quindi possiamo farlo per forza così per forza così e qua c'è il secondo tunnel ok senza pavimenti perché raga funzionano da ostacolo qua quindi non possiamo optare per mettere i pavimenti rallentanti non possiamo optare per metterceli in quanto appunto se lo mettiamo funziona come ostacolo e i zombie si si metteranno qua a spaccare ma magari fanno qualcos'altro non si sa quindi niente pavimenti li facciamo cominciare qua i pavimenti per rallentare e di qua dove è possibile che loro ci passino tranquillamente ok quindi qua confluiscono i due tunnel e qua c'è lo sponkill attenzione 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 a come costruite il vostro sponkill perché loro nasceranno alcuni persino da di qua quindi li facciamo cadere e li facciamo entrare dentro di qua da di qua attenzione a non fare il muro così perché se fate il muro così e il tetto così ci sono zombie che vi nascono direttamente attraverso questa struttura e quindi direttamente qui sul tappezzamento e poi voi non ve ne accorgete vi distruggono tutto attenzione vi date veramente così il metodo maggiore che vi consiglio se volete fare qualcosa di più magari ci fate così anche se comunque già così va bene sarà veramente piccolo lo spon che nascerà da qui guardate come l'ho costruito io una gas semplicemente che li prende qua e poi attenzione che è possibile che ci sarà qualche pisello che nasca persino qui allora ho ideato un sistema dove farli camminare e farli cadere direttamente nel tunnel degli altri raga perché non posso permettermi di costruire un altro tunnel qui quindi qua al cento per cento qualsiasi zombie nasca verrà per forza buttato giù con questo sistema e quindi di conseguenza avrà confluito nello stesso tunnel degli altri ok mi sembra parecchio parecchio semplice e poi anche di qua abbiamo un passaggino ok che si spinge sempre verso l'amplificatore e voilà siamo arrivati a b lì era il nostro amplificatore b e abbiamo il nostro amplificatore c di qua ok quindi qua abbiamo chiuso perché non mi ricordo sinceramente ma se ho chiuso c'è una ragione allora questo amplificatore c è abbastanza semplice da capire in quanto si sa qual è dai abbastanza riconoscibile con queste strutture allora osserviamolo bene insieme però perché è davvero particolare anche questo innanzitutto abbiamo uno spawn che ci arriva da sud è uno spawn che ci arriva da ovest cominciamo con quello da ovest da ovest partendo direttamente dallo spawn qua è buildato in una maniera veramente particolare però mi funzionava al 100% raga quindi non mi sono azzardato a cambiarla ok qua sono tetti antistreghe qua ci sarà uno spawn quindi avrò tappezzato quindi ho tappezzato di gas qui vabbè le gas è inutile mettercele cominciamo da qui e qua il solito sistema per farli entrare ok stessa cosa di qua perché loro comunque cercheranno in molti di passare da qua qua è tutto chiuso raga tutto tutto chiuso assolutamente tutto chiuso qui e avremo un piccolo spawn persino da qui quindi vabbè le gas qua sono esagerate potete anche non mettercele io per stare tranquillo ce le ho messe loro comunque scenderanno qui entreranno tutti dentro questo tunnel questa è una struttura un po estetica un po così un attimo non so neanche io perché l'avevo fatta comunque per farvi capire un attimo qua c'è la collina quindi loro verranno confluiti o da qui dentro o da qui dentro vediamo il primo tunnel vabbè tutto così un bel dritto per dritto per fargli arrivare qui potete decidere anche di fare una roba del genere così gli fate perdere più tempo e un altro giro s di qua decidete voi raga in genere io non ho avuto difficoltà così quindi non mi sono azzardato a cambiare e poi il tunnel di qua che li farà confluire dentro questa struttura di qua qua salto giro s stanza per di tempo e amplificatore c ok non mi sembra particolarmente difficile in quanto appunto è questa è la strada che devono percorrere lo spawn è abbastanza conosciuto questo qui vediamo adesso lo spawn di sud quello di ovest e quello di sud allora partiamo dal inizio allora abbiamo lo spawn direttamente qui quindi un pochino di gas qua dove possiamo iniziare a danneggiarli ci sta no pulito semplicemente una strisciata ok poi qui abbiamo lo spawn kill prepotente pieno di gas forse esagerato e qua cominciano i tunnel ok allora c'è qualcosa ancora da potenziare vedo da qualche parte qua c'è una stanza per di tempo quindi la riapriamo ce la facciamo così la stanza per di tempo questi sono i due tunnel parecchio confusionaria è la mia qua lo sbalzatore che mi fa tornare direttamente qui dentro tutto così raga guardate l'amplificatore c tunnel di destra qua ne ho fatti due perché raga vi tenteranno di spaccare un po ovunque se non buildate così quindi ve lo consiglio particolarmente molta semplicità e molta funzionalità allo stesso tempo ok mi sembra abbastanza chiaro e qua cominciamo a farli saltare saltano una volta saltano due volte tre volte insomma potete anche decidere di farli saltare direttamente qui risparmiare queste strutture che ho fatto io in sostanza fare una roba del genere e li facciamo saltare direttamente qua si preferisco anch'io in effetti tenere così ora come ora preferisco tenere così quindi in alternativa possiamo farci qualche protezione così non si sa mai qualche strega arrivi fino a qua ok e questi erano i due spawn abbiamo qualcosa da potenziare mi sembra abbastanza chiaro ora siamo all'amplificatore d che è precisamente in questa parte della mappa attenzione guardate qua distesa di lanciatori a terra ovviamente poi abbiamo uno spawn da ovest e uno spawn da nord partiamo in quello da nord che è il più semplice in quello da nord guardate questo spawn lo conosceranno tutti bene mi raccomando guardate ok qua ho già sgamato qualcosa che non va bene pugni che vanno a lanciare gli zombie direttamente qua sotto raga e veramente faranno un salto esagerato a quelli che riescono ad arrivare qui stanze per di tempo laddove possiamo ah no scusate qua non c'è il tetto perché appunto ci sarà uno spawn piccolino da qui quindi gli ho cercato di lasciare la strada libera quindi pugni di qua che fanno sempre perdere tempo pugni 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 puri di qua pugni puri di qua addirittura qua non ci sono le gas ma ci sono i pugni perché ci abbiamo lo spawn anche qui sopra quindi state molto attenti a non metterci gas qui sopra che vi andranno a far camminare gli zombie in sostanza qui e vi faranno saltare le vostre trappole appunto quindi qui un altro spawn sempre da lì sopra come vedete qua ci sono le gas ci sono le gas e i pugni che me li lanciano giù una volta che me li lanciano giù loro entreranno in questo tunnel dove ci sono un paio di gas e un sistema per fargli perdere il tempo ok e qua c'è l'amplificatore attenzione però fate molta attenzione perché era un altro tunnel ok mi sembra abbastanza chiaro questo è il secondo tunnel e guardate qua a sinistra se riescono ad arrivare comunque vivi anche se comunque tre pugni o muro di solito riescono a lanciare giù qualsiasi tipo di zombie ci ho messo le gas ulteriormente per danneggiarli bordate e qua cominciano comunque gli sbalzatori da terra che faranno morire i superstiti in sostanza questo è il tunnel mi sembra abbastanza chiaro pure questo tappezzamenti qua enormi raga un tappezzamento veramente veramente enorme ve lo faccio vedere bene e così è come si presenta tutto un muro qua per chiudere raga assolutamente e così è parecchio consistente ve lo assicuro e sempre sull'amplificatore di ora abbiamo lo spawn da ovest attenzione però perché dallo spawn da ovest ci saranno due punti da tenere aperti lo teniamo aperto qua da sinistra e lì da destra dove all'inizio principalmente era lì poi gli zombie o comunque facevano il giro da lì perché cercavano la discesa naturale allora glielo ho spostata di qua quindi ricordatevi della salita naturale e la facciamo percorrere loro sono agevolati da ciò cercheranno di fare la strada appunto più facile che sarà questa sarà questa oppure questi qua guardate com'è tutto aperto che sono comunque due tunnel che mi faranno confluire gli zombie o qui dentro o qui dentro in questo tunnel in sostanza non si metteranno dai qui a rompere abbiamo messo pure il pugno muro che in caso me li butta indietro quindi loro nasceranno da qui nasceranno da qui dove c'è sta cosa se non volete fare il tappezzamento ricordatevi sempre di chiudere l'amplificatore così eh quindi loro nasceranno tutti da qui spawn di gas per danneggiarli il più possibile e qui li facciamo entrare in questo tunnel dentro di qua guardate amplificatore D questi erano i due tunnel quello dentro che lo fa confluire e poi c'è un piccolo tunnel persino ve lo faccio vedere subito persino di qua perché guardate qualche zombie da qui ci verrà sempre eh ho notato che durante l'endurance mi volevano spaccare ecco perché è buildato in questa maniera ho già sgamato due posti liberi che possiamo andare a utilizzare cercheranno di scendere così raga loro vabbè perderanno tempo qui dentro o qui dentro e poi confluiranno nello stesso tunnel finale di questi in sostanza è buildato perchio strano questo però è funzionale ve lo assicuro è funzionale siete liberi di copiarmelo o di avere la vostra immaginazione al 100% salva il mondo è bello anche perciò io mi sono trovato perchio bene con questa modalità endurance in ballargutta tant'è che l'ho affrontata in due e sono stato il 90% della partita FK tra miniboss e il resto comunque qualcosa devi sempre fare andrò a coprire gli amplificatori che non ho coperto con un video bonus in cui coprirò tutti gli amplificatori bonus che io non ho in un video solo sia quelli di pietralegno di tavolaccia e di ballargutta per ora raga vi ringrazio di aver guardato il video mi raccomando di lasciare solamente un bel like se è stato abbastanza chiaro se vi è tornato abbastanza utile noi ricordate che ci vediamo con il video di domani bella bella